Ebbene, a conclusione del concorso dei presepi, sempre gettonatissimo ogni anno, anche quest'anno siamo un po' arrivati alla conclusione. Abbiamo qui ospiti nei nostri studi i vincitori di questa edizione, qui c'è il loro gift pronto per essere consegnato. Conosciamoli insieme, allora siete? Io Veronica e Gerry. Veniamo da Mondolfo. Allora, presepisti per passione, vi piace così tanto fare il presepi? Sì, molto. Abbiamo la passione, sì, ci piace molto. Da dove l'avete ereditato? Dai genitori? Dai genitori. Dopo ogni anno ci piace anche farlo sempre diverso, cambiarlo ogni anno. Bene, contenti di questa piccola vittoria? Sì, molto. Molto soddisfatti. Ecco, i sacrifici alle volte vengono ricompensati. Quando hai iniziato a fare il presepre? I primi di dicembre. I primi di dicembre, insomma. Una settimana, facciamo tutto. Va bene, di divertimento, di piacere. Allora, qui c'è la Smart Box, il vostro regalo, quindi io ve lo faccio ufficialmente consegnare nelle mani e quindi siamo arrivati alla conclusione. Perfetto, grazie, grazie mille.